Dejan Ivanov, prima intervista e prima giornata a Varese con la nuova maglia della Cimberio. Le tue impressioni all'arrivo? Queste le mie impressioni sono che tutti sono persone bravissime, è una squadra professionale, mi piace troppo, il giorno non è bello, però tutte le persone sono benissime. Io conosco Gian Maria bene, con altri stiamo conoscendo. È un processo, però mi piace troppo, troppo. Arrivi con un obiettivo ben definito da parte tua e da parte della squadra. Non ho capito. L'obiettivo della squadra è chiaro a questo punto, vincere la regular season e poi tentare tutto nei play-off. Sì, questo è l'obiettivo della squadra, vinciamo la regular season, finiamo i primi e dopo giochiamo per titolo. Questo è l'obiettivo, il mio personale obiettivo è per aiutare questa squadra per arrivare al livello che serve. Grazie. 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 Grazie.